Autorità spirituale, capitolo 18. La vita quotidiana ed il momento interiore dell'autorità delegate. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli, Maestro desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro, che volete che io faccia per voi. Essi gli dissero, concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete, potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Essi gli risposero, sì lo possiamo. E Gesù disse loro, voi certo berete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. Ma quanto al sedersi, alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. I dieci, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù chiamateli a sé e disse loro, voi sapete che quelli che sono reputati, principi delle nazioni, le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco capitolo 10 versetto 35 al 45. Bere il calice del Signore ed essere battezzati del suo battesimo. Mentre egli era in terra, Gesù raramente insegnò come stare in autorità, poiché questo non era lo scopo della sua missione. Il passo biblico più chiaro nel quale Signore ti dite un insegnamento sull'autorità è quello che si trova in Marco capitolo 10. Chi desidera sapere come essere un'autorità dovrebbe leggere questo brano. Giacomo e Giovanni furono la causa prima dell'insegnamento di Gesù. Essi ambivano e posti d'onore ai lati del Signore nella sua gloria. Sapendo che una tale richiesta era alquanto indiscreta, i due fratelli non osarono presentarla in modo diretto, ma subito la mente domandarono al Signore di concedere loro quanto gli avrebbero chiesto. Volevano prima di tutto assicurarsi una promessa da Gesù, ma Gesù non accondiscese troppo presto, anzi chiese loro di specificare ciò che volevano, così essi dissero concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Una tale richiesta aveva due significati. Primo essere più vicini al Signore, secondo avere maggiore autorità. Era giusto che desiderassero essere vicini al Signore, ma la loro richiesta andò ben oltre per il loro desiderio di essere riconosciuti il più importante degli altri dieci discepoli. Quale fu la risposta di Gesù? Prima aveva chiesto loro che cosa volevano da Lui, ma ora dichiara loro che essi stessi non sanno quel che stanno chiedendo. Il Signore non biasimò il loro desiderio di essere accanto a Lui, né quello di ambire ad una posizione di maggiore importanza che li avrebbero fatti sedere ai lati del trono suo glorioso. Rispose semplicemente che, prima di ottenere ciò che chiedevano, avrebbero dovuto bere il suo calice ed essere battezzati del suo battesimo. Già come Giovanni credevano di poter ottenere ciò che volevano con una semplice richiesta. Il Signore rispose che quel che chiedevano non sarebbe stato concesso al primo richiedente, ma a chi avrebbe bevuto il calice e ricevuto il battesimo. È perciò evidente che se un vuol stare vicino al Signore e possedere autorità, deve prima bere il calice del Signore e ricevere il battesimo del Signore. Cosa sono il calice del Signore ed il battesimo del Signore? Cosa vuol dire il termine calice del Signore? Nell'orto del Getsemani un calice venne posto dinanzi al Signore ed egli pregò Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo, capitolo 26, versetto 39 In quel momento il calice e la volontà di Dio non erano ancora una cosa sola. Il calice avrebbe potuto essere rimosso, ma la volontà non poteva essere mutata. Pur desiderando di fare la volontà di Dio assolutamente, il Signore Gesù poteva ancora non aver bisogno di bere il calice. Era disposto a bere il calice se era la volontà di Dio per lui, però sarebbe anche stato disposto a fare a meno di berlo sempre che questa fosse stata la volontà di Dio. Tali parole meritano tutta la nostra ammirazione e l'adorazione. Nel Getsemani Gesù volle essere certo che il calice fosse la volontà di Dio. Dopo aver pregato così tre volte, fu certo che il calice e la volontà di Dio erano una cosa sola, per cui disse Non berrò io il calice che il Padre mio mi ha dato? Giovanni, capitolo 18, versetto 11 Nel Getsemani c'era ancora la possibilità che il calice potesse passare oltre a lui, perché il calice e la volontà di Dio non erano ancora divenuti una cosa sola. Dopo questo avvenimento, però, il Signore sapeva bene che il calice era la volontà di Dio. Era un calice dato dal Padre che egli doveva bere. Questa è una profonda lezione spirituale. La croce non era la cosa più importante nella mente di Gesù, ma il fare la volontà di Dio lo era. Sebbene la sua crocifissione fosse tremendamente importante, non poteva sostituire o superare il valore della volontà di Dio. La croce sulla quale Gesù morì come prezzo di riscatto per molti non può levarsi al di sopra della volontà di Dio. Lo scopo della vita di Cristo non era di essere crocifisso, ma di fare la volontà di Dio. Essa ha primaria importanza. La morte della croce ne è la conseguenza. Per amore del Padre il Signore venne crocifisso. La sua morte non aveva alcun rapporto diretto con la croce, ma era in diretta relazione soltanto con la volontà del Padre. La sua scelta fu di fare la volontà di Dio e non la croce, per cui il calice significava la sua sottomissione alla potente autorità di Dio e obbedienza alla divina volontà. Perciò egli chiese a Giacomo e a Giovanni, potete voi bere il calice che io bevo? Molti sono capaci di essere in rapporto con la consagrazione o con la sofferenza, oppure con l'opera del Signore. Però la nostra unica relazione diretta dovrebbe essere con la volontà di Dio. Alcuni, quando sono presi dal lavoro, non sono capaci di fare altro. Sono così attaccati al lavoro che vi affogano dentro. Questi non riescono a comprendere nient'altro della volontà di Dio. Si accaniscono in esso fino alla fine, non secondo la volontà di Dio, ma per semplice attaccamento. Non così il Signore. Egli era così intento a fare la volontà di Dio da considerare possibile il non essere crocifisso. Tuttavia, una volta accertatosi che la croce era la volontà di Dio per lui, egli l'accettò immediatamente, non tenendo conto delle atroci sofferenze a cui stava andando incontro. Per questo chiese a Giovanni e a Giacomo. Siete capaci di sottomettervi a Dio come faccio io? Questo è il calice del Signore. Coloro che sono obbedienti a Dio sono ancorati fermamente solo nella volontà di Dio. Qualsiasi altra cosa è soggetta a cambiamenti. Ma prima di fare la volontà di Dio, devono assoggettarsi all'autorità di Dio. Nell'orto del Getsemane il Signore raggiunse l'apice della sua obbedienza. Egli non confonde il calice con la volontà di Dio. L'oggetto della sua obbedienza è la volontà di Dio, non il calice. È sempre sottomesso la volontà di Dio perché la considera di sopra di ogni altra cosa. La volontà di Dio è prima dell'opera redentrice, prima delle sue sofferenze, prima della croce stessa. Gesù sembra dire a Giacomo e a Giovanni Il fatto che voi sediate o meno alla mia destra o alla mia sinistra dipende dal vostro bere il calice che io bevo, che è l'assoluta obbedienza alla volontà di Dio. Qual è l'allora il significato del battesimo del Signore? Non si tratta qui di un riferimento al battesimo nel fiume Giordano perché quell'evento apparteneva al passato. Esso punto invece al futuro, alla sua morte sulla croce. Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Luca, capitolo 12, versetto 50. In queste parole c'è la previsione della propria liberazione. La pienezza della gloria di Dio era costretta nel suo corpo incarnato. Quanto era alle strette, quanto era angustiato Gesù. Qual è benedizione potersi liberare? La croce, quindi, è lo sprigionamento della vita, oltre che l'espiazione per il peccato. Dio libera la sua vita per mezzo della croce. Non appena la vita di Dio è sprigionata, essa viene accesa come un fuoco versato sulla terra che causerà divisioni invece di pace. Il fuoco brucia a qualsiasi cosa tocca. Delle famiglie saranno divise, e credenti e non credenti saranno in conflitto. Quelli con la vita e quelli senza vita combatteranno l'uno contro l'altro, e si scontreranno quelli che sono stati toccati dal fuoco con quelli che non sono stati toccati. Questo è chiamato il battesimo del Signore. Dove c'è vita, c'è lotta e non pace. Chi ha respinto questo battesimo viene separato da quelli che lo hanno ricevuto. Sembra qui che il Signore voglia dire io vado sulla croce per liberare la vita, affinché gli uomini si facciano guerra. Siete voi capaci di fare la stessa cosa? Il battesimo stesso è prima morte e poi vita liberata, con la conseguenza che il battesimo divide gli uomini. Questo è conforme all'affermazione di Paolo che dice La morte opera in noi, ma la vita in voi. Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 12. Nel battesimo il Signore perde con la morte il suo involucro esterno da cui si spregiona la vita. Noi dovremmo fare la stessa cosa oggi in modo che l'uomo esterno venga infranto e la vita interiore possa sprizzare fuori. Quando il suo guscio è rotto, l'uomo viene avvicinato molto agli altri e la vita può facilmente sgorgare. In caso contrario, la vita rimarrà rinchiusa, lo spirito avrà difficoltà ad emergere e così sarà bloccata la via per dare la vita ad altri. E quando il chicco di grano cade nel terreno e il suo involucro si apre, che comincia il flusso vitale, per cui il Signore dice Chi avrà perduto la sua vita per amor mio la ritroverà. Matteo, capitolo 16, versetto 25. Il Signore non dice morire, ma essere battezzati, perché nessuno abbia a fraintenderlo pensando che Giacomo e Giovanni parteciparono con lui all'espiazione. Perché Cristo, che è il nostro sommo sacerdote, ha da solo espiato per i nostri peccati. Non c'è nessun altro che possa farlo, che possa prendere parte alla redenzione. Ma se non possiamo partecipare alla sua morte espiatoria sulla croce, possiamo senz'altro partecipare allo sprigionamento della vita. Di conseguenza, il Signore qui parla solo della parte della sua morte che libera la vita e non dice nulla riguardo all'espiazione. Così sembra che egli ci dica Il battesimo che io riceverò romperà il mio involucro esterno e sprigionerà vita. Volete voi essere battezzati in questo modo? A meno che uno non venga infranto, la vita non può essere sprigionata. Un uomo non collaudato da questa esperienza mantiene le distanze tra sé e gli altri. Sebbene possiate vederlo seduto vicinissimo ad altra gente, non può arrivare a loro perché la sua vita interone non può fluire liberamente. Non appena tale vita comincia a scorrere, la terra perde la sua pace e gli fa guerra. Molti saranno divisi a causa di coloro che hanno questo tipo di vita fluente in loro. La differenza fra quelli che appartengono al Signore e quelli che non gli appartengono è grande. Molti contrasti sorgeranno fra quelli che conoscono Dio e quelli che non lo conoscono, fra quelli che pagano il prezzo e quelli che non lo pagano, fra quelli che accettano le prove e quelli che si rifiutano di accettarle. Probabilmente il Signore, mentre parlava a Giacomo e a Giovanni, voleva dire questo, già che voi chiedete di differenziarvi dagli altri. Volendo sedere ai lati del mio trono, siete capaci oggi di distinguervi dal resto dei figli di Dio? Voi dovete prima bere il mio calice ed essere battezzati del mio battesimo, se volete sedervi alla mia destra e alla mia sinistra nella gloria. Pieni di presunzione, Giacomo e Giovanni risposero Sì, lo possiamo. Malgrado ciò, il Signore non promise loro i posti che desideravano ai lati del suo trono. Sebbene avessero domandato malamente, il Signore rispose correttamente. Il suo pensiero è che se uno non beve il suo calice e non è battezzato col suo battesimo, non può sedersi né a destra né a sinistra. Ed anche se beve ed è battezzato può finire col non sedersi al suo fianco per il semplice motivo che è Dio Padre stesso da segnare ai posti che ha già preparato. L'autorità non è signoria, ma umile servizio. Il Signore contenuò il suo insegnamento sull'argomento dell'autorità, chiamò i suoi discepoli assieme e li ammaestrò, dicendo loro che fra i gentili gli uomini ricercano l'autorità lo scopo di dominare sugli altri, ma che i suoi seguaci non dovrebbero avere in mente di usare potestà o di signoreggiare i suoi figli di Dio. Se lo facessero, cadrebbero nel loro stesso stato in cui si trovano i gentili. Esercitare potestà e signoreggiare sono le ambizioni dei gentili ed è un tale spirito non deve essere assolutamente prevalere nella Chiesa. Dio usa quelli che conoscono il calice del Signore e del suo battesimo. Bevendo del calice e ricevendo il battesimo noi naturalmente avremo autorità. non c'è peggior cosa che cercare di signoreggiare sugli altri dall'esterno. Se non scacciamo via da noi questo spirito dei gentili non saremo mai adatto a guidare gli altri. Non bisognerebbe mai affidare alcune autorità a uomini che la ricercano ad ogni costo perché Dio non dà mai la sua autorità a tali persone. Più uno è dominato dallo spirito dei gentili e meno Dio può usarlo nell'opera sua. Ma, strano a dirsi, colui che riconosce la propria incompetenza è quello che Dio affida all'autorità. Questa è la via del Signore e questa dovrebbe essere la nostra via. Non dovremmo comportarci come politicanti sempre impegnati a destreggiarsi con diplomazia. Non dovremmo dare un posto di comando a qualcuno solo per timore che gli si ribelli. Nella casa di Dio bisogna agire spiritualmente e non politicamente. Pur dovendo mantenere una disposizione di gentilezza e di calma non possiamo dimenticare di essere sempre fedeli a Dio. Il credente deve abbassarsi al cospetto di Dio se vuole essere usato da lui perché ogni volta che se leva viene respinto da Dio. Quanta differenza fra il tipo d'autorità in un soffre gentile e quello usato nella Chiesa. I primi governano per rango. La Chiesa governa mediante il ministero della vita spirituale. È assolutamente ruminoso per la Chiesa abbassarsi a livello dei gentili. Essa deve mantenere una netta separazione da loro. Chiunque fra noi si riconosce adatto ad essere in autorità è il meno edonio. Dobbiamo mantenere in noi questa sensibilità importantissima. Per essere grande bisogna essere un servitore. L'autorità che Dio assegna deve avere un fondamento spirituale. Chi la riceve deve bere il calice ossia deve obbedire totalmente la volontà di Dio e deve ricevere il battesimo. Cioè accettare la morte per poter spigionare vita. Non deve avere alcuna intenzione di esercitare autorità. Al contrario deve essere pronto a servire come servitore e schiavo di tutti. In altri termini deve possedere da un lato una forte base spirituale e dall'altro un grande spirito di umiltà. Per il fatto che non cerca di essere in autorità un uomo può essere da Dio usato a questo scopo. Non ha senso parlare dell'autorità se non si è bevuto il calice e se non si è ricevuto il battesimo. A chi è veramente umile e si considera adatto ad essere nient'altro che servitore di tutti il Signore annunzia la possibilità della vera grandezza. La condizione per essere in autorità è un senso di incapacità e di indignità. Se leggiamo attentamente la Bibbia ci rendiamo conto che Dio non ha mai usato un'anima orgogliosa. Nell'istante in cui uno diviene orgoglioso Dio lo mette da parte e lo scarta. Il suo orgoglio interno presto tarti si rivela nel suo linguaggio poiché nelle parole trapela continuamente quel che è nell'uomo interno. Nel giorno del giudizio di Dio molti saranno specialmente sorpresi ma più di tutti lo saranno gli orgogliosi. Dobbiamo sentire la nostra incapacità perché Dio non usa quelli che sanno di essere capaci. La diplomazia dei guanti bianchi non è di casa qui. Al contrario va abita il buon senso di riconoscere che siamo solo dei servi inutili. Anche se abbiamo pascolato il greggio e lavorato il campo tornando a casa ci riconosciamo ancora dei servitori senza meriti. Non dovremo mai dimenticare di rimanercene a livello della servitù. Dio non affida mai la sottorità all'ipocrita e al presuntuoso. Gettiamo via la boria e impariamo a essere umili e miti non parlando mai di noi stessi impariamo a conoscerci agli occhi di Dio. Finalmente il Signore disse poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Gesù non viene per esercitare autorità ma per servire. Meno uno è presuntoso più si umilia e più sarà utile più uno è borioso e fazzoso e meno utile sarà. Nostro Signore prende la forma di uno schiavo essendo nato nella somiglianza ad uomo non allunga mai la mano per afferrare l'autorità perché essa gli è data da Dio. Il Signore Gesù dall'umiltà in cui era sceso fu innalzato all'altezza più elevata questo è il suo principio di vita. Non allunghiamo mai le nostre mani carnali per aggrapparci da notorità terrena siamo schiavi di tutti e un giorno Dio ci affiderà una responsabilità speciale così impareremo a rappresentare Dio per cui il ministero è la base dell'autorità il ministero viene dalla risurrezione il servizio viene dal ministero e l'autorità dal servizio che il Signore ci liberi dall'essere altezzosi quanto sarà grave la condanna di coloro che arraffano l'autorità di Dio con le loro mani carnali dovremo temere l'autorità come temiamo il fuoco dell'inferno non è cosa facile rappresentare Dio è troppo elevato è troppo meraviglioso noi abbiamo bisogno di seguire fedelmente la via dell'ubbidienza il nostro sentiero è l'ubbidienza non l'autorità è l'essere servitori non capi è l'essere schiami non governanti sia Mosè che Davide fu una grande autorità ma nessuno di due tentò di stabilire da sé una propria autorità chiunque oggi ha il desiderio di essere in autorità dovrebbe seguire le loro orme dovrebbe esserci sempre timore e tremore nel trattare argomenti come l'essere in autorità